Signore e signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine solito, usuale e a voi ben consueto della mia libreria, con un video in cui parleremo di un organismo molto noto a parole, ma un po' meno noto nella realtà dei fatti dell'Armata Rossa, ovvero sia parleremo dello Stavka, ovvero sia il Comando Supremo dell'Armata Rossa. Di che cosa si trattava per la precisione? Ce lo spiega Giuseppe Maida dalle pagine della Seconda Guerra Mondiale di Enzo Biagi. Ripeto, opera che ha fatto epoca, opera assolutamente valida anche a distanza di 40 anni, un'opera che contiene tante, tantissime utili spiegazioni su tanti argomenti e tanti personaggi spesso e volentieri poco conosciuti. E uno di questi esempi è ovviamente che cos'era lo Stavka. Allora, il termine Stavka è di origine molto probabilmente paleoslavonica e viene dal verbo Stavit che significa porre ritto in piedi o, secondo un'altra teoria, deriva da un antico vocabolo tartaro che indicava al tempo del nomadismo centroasiatico la tenda più alta delle altre nella quale era insediato il capo dell'orda e dalla quale esercitava il comando supremo. Non ha nulla, il termine Stavka non ha oggettivamente nulla a che vedere con il termine tedesco Stab. È un'opinione molto diffusa che Stavka derivi dal termine tedesco Stab che originariamente significava bastone e che assumerà più tardi il senso di bastone di comando e successivamente di organo di comando, cioè quello che in Italia si chiama Stato Maggiore di quello che nei paesi anglosassoni si chiama Stav. Già al tempo degli zar Stavka significava giusto appunto quartier generale o Stato Maggiore e durante la prima guerra mondiale ebbe sede a Mogilev con lo zar Nicola II e il Duca Nicolai. Subito prima della seconda guerra mondiale testi ufficiali prevedevano che in caso di conflitto si sarebbe designato con il nome di Stavka la direzione diretta della lotta armata e di tutta l'attività delle retrovie avente relazione con la guerra. Quindi in pratica un comando centralizzato. Una certa differenza con il caos dei comandi italiani ma vabbè 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 vabbè. In effetti questa nuova Stavka dotata sin dall'inizio di poteri estesissimi venne creata il 23 giugno 1941 il giorno dopo lo scatenamento dell'invasione da parte tedesca per decisione del comitato centrale del partito comunista dell'unione sovietica e del consiglio dei commissari del popolo. Comprendeva il maresciallo Semyon Konstantinovich Timoshenko commissario del popolo alla difesa cioè il presidente dello Stavka e il generale d'armata Georgi Konstantinovich Tsukov allora capo dello stato maggiore generale Iosif Vissarionovich Giugashvili detto Stalin peppe acciaio ecco e allora capo presidente del consiglio dei commissari del popolo poi c'era Molotov suo primo vice e i marescialli Voroshilov Budionni l'ammiraglio Kuznetsov che era il commissario del popolo alla marina militare cioè certo che l'accoppiata Budionni Voroshilov era qualcosa di terrificante. Nello stesso tempo venne istituito a fianco dello Stavka un corpo di consiglieri permanenti civili e militari membri effettivi o candidati del politburo e del comitato centrale c'erano Shapochnikov, Zhdanov, Zhigarev, Kulik, Meklis, Mereckov, Mikoyan, Vatutin e Voronov insieme a Voznensky e ad altri. Il documento costitutivo precisa che la Stavka ha il compito non soltanto di assicurare la condotta strategica delle forze armate e di elaborare i piani delle operazioni più importanti ma anche di preparare le riserve e organizzare lo sviluppo e il miglioramento tecnico dell'esercito e della flotta. Nello stesso tempo il vecchio Stato Maggiore Generale si trova a essere ridotto a organo esecutivo dello Stavka. Esso, secondo le indicazioni ricevute, prepara le proposte operative che dopo esplicita approvazione da parte della Stavka diventeranno precisi ordini di azioni. E qui c'è da dire una cosa, senza volerlo, Maida con molti anni di anticipo svela una cosa molto molto particolare. Cioè per anni, per tanti anni, diciamo dopo il 1956 quando Khrushchev iniziò la destalinizzazione, si è detto che Stalin dopo l'operazione Barbarossa cadde in uno stato di profonda depressione e si ritirò nella sua dacia a preoccuparsi e a cercare di reagire. In realtà all'apertura degli archivi dell'ex Unione Sovietica salto fuori che Stalin lavorò ininterrottamente per giorni e giorni, fino a 20 ore al giorno, emanando direttive, partecipando a riunioni e coordinando e ricevendo, dando ordini e ricevendone altri. Cioè, Khrushchev affermò di avere visto Stalin cupo, depresso e disperato. Ma molto probabilmente, a quanto è saltato fuori, Khrushchev arrivò in un momento in cui Stalin, dopo dieci giorni in cui praticamente non dormiva, era quasi al collasso. Ok? E questa cosa è venuta fuori molti anni dopo. Cioè, ve lo immaginate voi che a un certo punto il comitato centrale del partito comunista dell'Unione Sovietica, che non fiatava senza ordine di Stalin, creare di punto in bianco un organismo come lo Stavka senza un ordine di Stalin? Eh, insomma, sapete bene quanto tenesse la faina georgiana al potere. E questa qui, se vogliamo, la creazione dello Stavka è una dimostrazione che, se vogliamo, Stalin in realtà non si fece sconfiggere, insomma, non si abbandonò alla prostrazione o alla depressione come normalmente si crede, ma reagì. Reagì nella maniera sbagliata, reagì in una maniera che gli costò clamorose sconfitte. Vedete il disastro combinato da Budionni o il disastro combinato anche da quell'altro bel fenomeno di Voroshilov, ma Stalin reagì e lavorò ininterrottamente per giorni e giorni cercando di pianificare una reazione all'invasione tedesca. Ok? Dal 10 luglio 1941, per ordine del Consiglio di Stato della Difesa, il GKO, lo Stavka dell'Alto Comando viene trasformato in Stavka del Comando Supremo e posto sotto la presidenza di Stalin. Ne fanno parte Molotov, lo zio Venceslao Martello, Timoshenko, Budionni, l'uomo che era salito talmente tanto in alto e talmente tanto repentinamente da farsi mancare l'ossigeno al cervello. Vabbè. Voroshilov, uno dei più rivoltanti tanti figuri della storia dell'Unione Sovietica, se vogliamo. Zhukov, l'asso pigliatutto, e Shapochnikov, il fedelissimo di Stalin, il miglior capo di Stato Maggiore di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Il vero cervello dello Stavka, Shapochnikov, era il vero cervello dello Stavka, il vero cervello organizzativo, il cervello operativo, sapete tutti chi era, Georgi Konstantinovich Zhukov. Ok, allora, 26 agosto 1942, durante tutto il corso della Grande Guerra Patriottica, lo Stavka affida ai suoi membri incarichi sempre più importanti, tra gli altri a Budionni, che fu semplicemente disastroso, Timoshenko, che se la cavò un po' meglio, ma che fu comunque sconfitto durante Barbarossa, e Zhukov, che, insomma, ripeto, si rivelò la carta vincente per Stalin e per l'Armata Rossa. Quest'ultimo, il 26 agosto 1942 diviene l'aggiunto di Stalin e i responsabili delle diverse armi e specialità, ovvero sia Fedorenko per carri armati e semoventi, Novikov per l'aviazione d'assalto e Voronov per l'artiglieria da campo, vengono frequentemente inviati dalla Stavka a ispezionare i singoli fronti. Notate bene, nella terminologia militare sovietica dell'epoca venivano chiamati fronti, quelli che nella terminologia occidentale vengono chiamati gruppi di armate, quindi fronte ucraino, fronte di Donetsk, fronte di Mosca, insomma, eccetera, eccetera, fronte della steppa, indicavano tutti gruppi di armate, ok? Allora, scusate gli occhiali, ne ho bisogno, abbiate pazienza. Allora, ma sono soprattutto Zhukov e Vasilevsky, allora capo di Stato Maggiore, che ricopriranno un ruolo di primissimo piano. In sostanza si deve ritenere che lo Stavka si è dimostrato durante tutta la guerra, e specialmente nella sua seconda metà, uno strumento di comando e di coordinazione estremamente efficace. Caso strano per una dittatura, perché sapete bene come solitamente nelle dittature i comandi militari tendano ad essere caotici, disordinati e slegati e mancanti di coordinazione, perché il dittatore cerca di evitare problemi che possano essere creati dalla formazione di centri di potere alternativo al suo. Va bene che Stalin era il capoccione dello Stavka, va bene che c'erano i suoi leccapiedi preferiti Budionni e Voroshilov, va bene che c'era il suo fedelissimo Shapochnikov, che oltre ad essere un grande amministratore, un grande ufficiale di Stato Maggiore, era l'uomo che faceva da contrappeso bilanciere e cinghia di trasmissione tra la volontà del Capo Supremo e i suoi generali. C'è una cosa che bisogna notare, le decisioni, se almeno dobbiamo credere ai memoriali di parte sovietica, sia dovuti ai generali filostaliniani, sia quelli dei generali che finita la guerra hanno preferito dimenticare persino l'esistenza di Peppe Acciaio, venivano sempre prese le decisioni dello Stavka, venivano sempre prese dopo lunghissime discussioni e dopo che tutti i presenti avevano potuto esprimere la propria opinione. E fu tenuta in gran conto non solo l'opinione dei membri permanenti, ovvero sia i politici più legati a Stalin, vedi ad esempio Molotov, ho fatto prima i nomi di Budionni e Voroshilov, che erano i leccapiedi militari di Stalin, ma anche lo zio Venceslao Martello, Molotov, era un altro fedelissimo, totale e assoluto di Stalin. Uno era lo starace, Molotov era lo starace di Stalin, non respirava senza un suo ordine. Ma oltre ai politici, oltre ai fedelissimi di Stalin, veniva sempre ascoltata anche quella di personalità, l'opinione anche di personalità esclusivamente tecniche come Bagramian, Koniev, Maritskov, Rokosovsky o Antonov, il futuro capo di Stato maggiore, che spesso venivano convocati dal generalissimo Peppone, Baffone, Acciaione e fumatore di Pipa Dunel, che era il capo assoluto, anche se Stalin era estremamente pragmatico. Stalin aveva le sue idee, ma sapeva bene di non essere propriamente un genio in fatto di guerra. Sapeva Stalin era, mettiamola così, i dittatori raramente sono stupidi, ok? I dittatori sono intelligenti, sono furbi, i dittatori però spesso e volentieri cadono in certe trappole. Stalin in certe trappole riuscì o ebbe l'intelligenza di non caderci, perché in una situazione come quella dell'Unione Sovietica durante la Grande Guerra Patriotica, Stalin sapeva benissimo, soprattutto dopo le prime disastrose sconfitte dell'estate 1941, Stalin imparò a tacere, imparò ad ascoltare, imparò a rispettare l'opinione dei professionisti, l'opinione dei generali. Famosa per dimostrare come Stalin teneva lo Stavka, è famosa una discussione che ebbe con Rokossovski. Praticamente Stalin proponeva, aveva alcune idee per un'offensiva, Rokossovski aveva idee completamente diverse. Rokossovski, che tra l'altro era stato nei Gulag durante le purghe, era stato cacciato nei Gulag e sfuggì pertanto così alla fucilazione, ok? Rokossovski prese e disse semplicemente, compagno Stalin, la sua idea è sbagliata. Stalin lo guardò e disse, compagno Rokossovski vada fuori e rifletta su quello che ha detto. Rokossovski esce, torna dentro e Stalin gli chiede, compagno Rokossovski ha riflettuto sulle sue opinioni? Certo, compagno Stalin, e rimango della mia opinione. compagno Rokossovski vada fuori e pensi ancora. Rokossovski torna e dice di essere rimasto della sua idea e spiega il perché la sua idea è migliore di quella di Stalin. Stalin lo guarda e gli dice semplicemente, bene compagno Rokossovski, se questa è la sua idea, faccia pure. E Rokossovski conseguì una grandissima vittoria. E Stalin, ripeto, la furbizia, l'abilità di Stalin come capo militare è questa. Cioè sapeva capire, sapeva sfruttare le idee degli altri, rispettava chi sapeva tenergli testa. E quella di Rokossovski non è certo l'unica. Cioè Stalin aveva sì, ripeto, i suoi le capiedi personali. Vodionni, Voroshilov, Molotov eccetera. Ma non aveva solo le capiedi. Stalin, che sapeva di essere poco competente in materia militare, seppe circondarsi da gente brava. Tsukov, Konev, Vatutin, eccetera, eccetera, eccetera. Gente che la guerra poi, alla fine, la vinse in suo nome. Va bene. L'intelligenza di Stalin come capo militare è in questo, cioè dare suggerimenti, accettare, paradossalmente, accettare le critiche, se portate nel modo giusto, ripeto. Stalin, messo sotto pressione durante la grande guerra patriottica, si rivelò condottiero e capo di Stato sorprendentemente pragmatico, sorprendentemente capace di equilibrio. Rimane sempre comunque un dittatore, uno dei più spietati dittatori della storia, ma durante la grande guerra patriottica il suo pugno di ferro trovò un equilibrio tra i suoi desideri e la dura realtà oggettiva dei fatti. Ok? Dopo gli errori gravissimi che costarono perdite spaventose durante la guerra durante la campagna di Barbarossa, Stalin capì che doveva lasciare mano libera ai professionisti, ascoltava, valutava, studiava, cercava di capire, dava retta a Shapochnikov che in fatto di gestire uno Stato maggiore era assolutamente un asso inarrivabile, ripeto, Boris Mikhailovich Shapochnikov, fu molto probabilmente il miglior capo di Stato maggiore della Seconda Guerra Mondiale, uno dei migliori diciamo pianificatori di tutta la Seconda Guerra Mondiale, al pari di Alan Brooke per lo Stato maggiore imperiale britannico e al pari di George C. Marshall in America. Era un organo, lo Stavka, che funzionava bene, era probabilmente l'unico organo democratico di tutta la Russia staliniana, cioè perché, ripeto, Stalin conosceva il valore dei suoi collaboratori, ne apprezzava le capacità e soprattutto seppe essere, durante la Seconda Guerra Mondiale, estremamente pragmatico, estremamente lucido e molto capace nel gestire la situazione. C'è anche da dire che era, come dire, la sua era anche una strategia di comportarsi con i suoi generali, una strategia piuttosto carogna, cioè lui dava dei suggerimenti. I generali dicevano va bene, gli obbedivano, se andava bene il merito era di Stalin, se andava male la colpa era dei generali. Ok. Rokossovski era uno di quelli che sapeva tenergli testa, lo era anche Zhukov, perché Zhukov oggettivamente parliamo di quello che è molto più probabilmente il più grande generale della Seconda Guerra Mondiale. Zhukov è indubbiamente, a parere degli storici militari seri, Zhukov è molto probabilmente uno dei migliori condottieri da campo di tutta la storia dell'umanità. Non per niente è stato l'uomo che ha messo in atto quella cosa che si chiama operazione Bagration, la più grande offensiva della storia. Ok? Quindi, cari signori, la storia dello Stavka più o meno è questa qua. Adesso, cari miei, tocca a voi, qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, ditemi qual è la vostra opinione, se non siete iscritti al canale iscrivetevi immediatamente e cliccate sulla campanellina degli avvisi. Io vi ringrazio tantissimo per l'attenzione, vi auguro una buona serata e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao!